Francesco Pacini arriva a Teramo in un ruolo in cui in questo momento c'era bisogno di un rinforzo. Il solo Lewandowski in questo pre-campionato ha dato l'infortunio di Gomis, poi però insomma quando rientrerà anche Gomis ci sarà concorrenza. Un'opportunità preziosa, è una piazza veramente importante e quindi sono contentissimo a prescindere dall'aspetto tecnico e dall'aspetto del campo. Con che spirito arrivi per giocarti le tue carte con il mister Zichel e dunque poter scendere in campo il più volte possibile? Io credo fondamentalmente nel lavoro del campo e credo che se uno riesce a fare le cose fatte bene tutti i giorni in allenamento, poi la partita è tutta una conseguenza. Le scelte tecniche chiaramente spettano all'allenato e ora la società e quindi su quelle io non ci metto bocca, io devo solo lavorare per provare a mettere in difficoltà nelle loro scelte il mister e lo staff tecnico. Il tuo trasferimento in prestito si è concluso nell'ultimo giorno di mercato a poche ore dalla chiusura, ci puoi raccontare come si è sviluppata, come è nata questa trattativa? Ma sì, c'era già stato un contatto settimana prima e poi per un po' di vicissitudini la cosa non si era concretizzata, però comunque era sempre rimasta aperta. Sono contento di essere qui e meno male ce l'abbiamo fatta a concluderla. Manca ancora un po' per l'inizio del campionato, fissato al 16 settembre, che stagione ti aspetti questa Serie C e come la valuti? Io l'anno scorso ero a Tapano e quindi ho fatto il girone C, non conosco il girone B, però per quello che mi è stato riportato e per quello che ho visto nelle immagini sicuramente è un girone difficilissimo, come lo è più o meno tutta la Serie C. Ha maggior ragione questo perché credo ci sia un tasso tecnico che sia superiore agli altri due gironi e quindi bisogna prepararci comunque a un girone molto difficile, impegnativo, in cui dovremmo farci arrivare pronti per accogliere più punti possibili.